Nel prossimo miliardo di anni, il sole diventerà così più caldo da far evaporare completamente gli oceali della terra. Del tutto, qui non vivrà più niente. Ciao Marky, ciao! Ciao, l'assetto. Eh sì, l'assetto è totale. In un tempo in cui non c'era nessuno. L'erano questi perché ci cascano sopra. Mi fanno trovare tantissimi sconti. Ciao a tutti e a tutti, sono Margherita Vicario, sono alla seconda puntata, arrivata al secondo episodio di Showtime. Ospite con me oggi, Adrian Fartade. Ciao, ciao, è un piacere essere qui. Innanzitutto devo presentarti per chi non ti conosce, ma ti conoscono tutti. Adrian Fartade è un divulgatore scientifico, artista, storico e anche youtuber tra le varie... Faccio cose, vedo gente. E secondo me illumini e ispiri un sacco di giovani, ma forse anche meno giovani, insomma. Chiunque ti sta ad ascoltare. Sono molto emozionata perché ti stimo molto, so che sei un vulcano di curiosità, di informazioni, di cose che vorrei sapere e non ho idea di come fai a sapere tutte queste cose. Questa seconda puntata è legata a una seconda canzone di Showtime che si intitola Canzoncina e il motivo per cui ho invitato proprio te per parlare di Canzoncina è perché è una canzone che parla forse di come finiremo noi umani su questa terra e mi piace molto il modo in cui tu tratti questi argomenti, però mi piace anche molto il tuo aspetto antropologico e la tua attenzione agli esseri umani. Riguardo a Canzoncina appunto sicuramente parla di questo macro tema che è quello della crisi ambientale, però della crisi climatica, però sono convinta che la crisi climatica sia solo la punta dell'iceberg di un tema molto più grosso, quello appunto del collasso ecosociale e a me proprio interessa molto questo aspetto sociale perché ci sono delle conseguenze sociali, però non ne parla mai nessuno. La prima domanda che ti voglio fare è perché secondo te gli esseri umani tendono ad adeguarsi così tanto anche alle cose più brutte a questo tipo di situazione in cui siamo? Una bellissima domanda, tra l'altro è una delle cose su cui c'è attivamente molta ricerca anche sia antropologica che sociale per cercare di capire quali sono i modi migliori per attivarci a noi come esseri umani in questo senso per reagire, perché il problema è che noi non siamo nella nostra evoluzione, non siamo mai stati così tanti e non siamo abitati a creare strutture per lavorare insieme per otto miliardi di persone e quindi noi nella nostra vita qualsiasi persona magari ha un gruppo di 20 persone che conosce, può essere che puoi conoscere magari se hai una vita più attiva 100 persone, a esagerare, ma man mano che aumentano i numeri perdi i legami, non hai il senso della tua tribù, tra virgolette il tuo gruppo oltre un centinaio di persone. Preoccuparci attivamente di quello che succede dall'altra parte del mondo diventa una sfida che non abbiamo mai affrontato ed è cruciale perché quello che ci influenza qui non è più solo quello che succede qui. In realtà non è mai stato davvero solo quello che riguarda noi perché se erutta un vulcano gigantesco dall'altra parte del mondo e da te le temperature scendono di due gradi e in quell'estate non puoi più coltivare, ti riguarda. Soltanto che poi noi non avevamo comprensione globale di quello che succede, ora invece dobbiamo iniziare a lavorare su questi temi globali e non è scontato che gli umani ci riescano, magari sì, ma magari questo è il limite della nostra evoluzione, magari semplicemente per come siamo. Sono convinta che appunto quello che possiamo fare noi è fare pressione sull'opinione pubblica perché poi dall'alto si decidono le regole e la stessa capacità di adattamento che è proprio degli esseri umani secondo me farebbe sì che gli umani poi, se esistesse solo il riciclo, che ne so, del bagno schiuma, gli esseri umani una settimana al supermercato si abituerebbero. Assolutamente, ma infatti non è che non abbiamo mai affrontato sfide di questo tipo. Quando abbiamo iniziato, grazie all'agricoltura, a produrre molto più cibo di quello che potevamo mangiare sul momento, abbiamo iniziato a conservarlo. Una volta che lo conservi da parte ti serve in modo per gestire qualcuno che coordini come viene gestito il cibo, chi lo tiene e poi commerci con altri che magari hanno cose che ti servono ma non hanno quel tipo di cibo e quindi inizia a fare scambi. Quel livello di aumento di complessità delle società che stavano iniziando a diffondersi, quella che veniva chiamata mezzo l'uno fertile, ha portato sì che venissero costruite strutture di governo. Cioè c'era qualcuno che coordinava quello che serveva delle regole su quanto viene prodotto, quanto viene tenuto, chi riceve che cosa. Inventare strutture di governo, di leggi, eccetera, per affrontare la complessità che va oltre soltanto i singoli o piccoli gruppi è una cosa che noi umani sappiamo fare bene. È solo che ora abbiamo questa nuova sfida davanti e dobbiamo reagire molto più velocemente perché la minaccia non è soltanto tipo un anno o due di magra, è un cambiamento che va a influire sull'intera biosfera. Quindi servono cose dall'alto. È ovvio che poi non è così facile anche perché ci sono, come spesso ve l'ha detto, interessi di altre industrie. Famosi interessi. Ora viviamo in un mondo per cui le leggi che noi applichiamo, che abbiamo creato decenni fa, non valgono allo stesso modo facilmente. Perché c'è un sistema di valori diverso. Sì, cioè industrie sono molto potenti, in alcuni casi ci sono aziende che sono più potenti dei governi. Quindi riuscire a creare delle leggi per cui facciamo l'interesse del pubblico e anche l'interesse per il futuro, non è così facile, così scontato, ma è questa la grande sfida. Cioè è qui che vediamo di cose che passa sono fatte gli esseri umani. Quindi secondo me se riusciamo a vincere questo, se riusciamo a creare dei sistemi in atto per permetterci di lavorare insieme e tenere a bada i nostri istinti peggiori, abbiamo una galassia intera da esplorare. Appena noi smettiamo di lottare inutilmente contro di noi, abbiamo infinite stelle con mille cose da scoprire. Mi chiedevo, visto che parte della canzoncina, ora non voglio fare troppi spoiler della performance, però... Che è bellissimo. C'è un piccolo rimando diciamo agli anni 60. Mi sembra di individuare anche per dei documentari che ho visto appunto negli anni 60, nel boom economico, come dire, è calata la diga, si è rotta la diga e da lì si è innescato la nascita dei supermercati. Tutto quello che dicevamo prima che... Il consumismo. Il consumismo, un'esigenza di cibo che non coincideva più con quella naturale, ma forse anche di reazione alla fine, al dopoguerra o comunque all'inizio del consumismo di massa. E allora mi chiedo, da storico ti chiedo, secondo te quella società lì aveva minimamente idea, aveva la percezione di quello che sarebbe potuto succedere? Aveva... No, credo... Allora, l'idea di fine del mondo era monopolizzata dalla guerra fredda e quindi dalla paura di una terza guerra mondiale con bombe nucleari. Quella era la più grande paura. C'erano altre paure che riguardavano la perdita del benessere. Molte famiglie erano a stretto contatto ancora con loro discendenti. I nonni, per esempio, vivevano magari in una povertà assoluta. Tu avevi fatto un balzo in avanti per cui avevi una casa tua, avevi una macchina, vivevi in città e c'era la paura di perdere quello e dover ritornare a qualcosa di molto molto più difficile. E quella era la più grande paura. Non pensavano al clima, ma in realtà, specialmente negli Stati Uniti, ma anche in Europa un po', c'era molto il tema dell'ambiente, per quanto riguardava scarti, scorie, per esempio cose buttate nei fiumi, inquinamento molto più tangibile. Alcune cose hanno funzionato di più, altre meno. È stato un processo molto più difficile di quello che doveva essere. Se vuoi, negli anni 80 c'è stato il primo momento globale di consapevolezza di quello che... e possiamo fare come differenza quando è venuto fuori il buco dell'ozono. Lo strato dell'ozono è questo strato di una molecola che è composta da tre atomi di ossigeno che ci protegge dai ultravioletti del sole. Senza quello, moltissimi ultravioletti in più finirebbero per colpire la superficie della Terra, aumentando moltissimo, per esempio, i tumori, problemi non solo per noi, ma anche per le piante e quello da cui dipende la vita sulla Terra. Non è che questa cosa era importante perché sennò viviamo peggio, non è che aumenta leggermente la temperatura, no, 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 moriamo. Sì, infatti se ne sentiva parlare tantissimo e si è... Sì. E anche corso ai ripari, cioè è vero che si è leggermente... Sì, ha fatto. Che è migliorata la situazione, quindi nel momento in cui c'è stata una legislazione che ha detto bisogna occuparsi di questo problema, poi effettivamente c'è stata una curva positiva. Esatto, a inizio degli anni Ottanta ci fu questa discussione sui clorofurocarburi che erano composti tipo freon e altre cose, spray o i frigoriferi come venivano prodotti, che quando arrivavano nella parte alta dell'atmosfera rompevano le molecole dell'azono e quindi abbiamo smesso di produrli. E quello ci ha salvato. Se noi non avessimo fatto quella cosa negli anni Ottanta, la stima è che tra gli anni ora, tra gli anni dieci, venti, trenta, avremmo iniziato a vedere molti gravi effetti in tutto il mondo. Quindi noi abbiamo letteralmente evitato la fine del mondo. E subito dopo... Pensa, se non avessero fatto quella cosa, noi ora avremmo vissuto davvero in un mondo post-apocalittico, o l'inizio di quel mondo. Per quanto riguarda il cambiamento climatico, subito dopo, al fine degli anni Ottanta, si disse abbiamo fatto questa cosa, facciamolo anche per il cambiamento climatico. Se noi agiamo ora, abbiamo tempo, abbiamo magari i prossimi dieci, vent'anni per fare una transizione, per dare il tempo a assestamento, perché non è facile smettere di rilasciare così tanto CO2, usare carbonanti fossili. Ci vuole tempo, facciamolo ora, così in primi anni duemila possiamo evitare il peggio. Ma che è successo? È successo che grandi compagnie petrolifere hanno pagato politici per iniziare a boicottare tutte le leggi. È successo che tutti questi sforzi sono arrenati quando abbiamo fatto un trattato internazionale a Kyoto, il protocollo di Kyoto, e poi Stati Uniti, poi Cina, India, si sono ritirati. Sì, perché avrebbe danneggiato le industrie. Cosa che, tipo, questa cosa è una visione estremamente sul mio pe, perché si sarebbe creata la condizione perfetta per una rivoluzione industriale nuova. perché se tu devi produrre energia in modo nuovo, devi avere tantissimi posti di lavoro nuovi. Produrre paneli solari, produrre eolico, cioè non è vero che saremmo rimasti noi senza lavoro. La verità è che sarebbero rimasti loro quelle vecchie industrie senza quel tipo di profilo. Tu quando hai, per esempio, creato questa canzone non ti è venuta la sensazione che tanto tu ne parlerai ma la gente dirà sì, però... È il motivo per cui l'ho chiamata canzoncina. Canzoncina. In realtà poi sotto sotto c'è anche molta angoscia. Vivendo io, anche per il lavoro che faccio in un ambito molto, come dire, dell'intrattenimento, ho un po' preso quella sensazione d'angoscia e l'ho messa in un contesto di... facciamolo diventare show, no? Che ne so, l'altro giorno c'era il giorno della terra. Paradossalmente dovrebbe essere tutti... Cioè, siamo talmente nel pieno dell'emergenza climatica che non basta un giorno di Kermess per parlare del problema della terra. Quando nella canzone dici si spegnerà il sole, non si spegnerà subito, ma anzi al momento sta diventando più grande. Alla fine, sì, però poi finirà spento, ma sul corto termine, nel prossimo miliardo di anni, il sole diventerà così più caldo da far evaporare completamente gli oceani della terra. Uff, del tutto. Qui non viverà più niente. La terra non sarà più nella zona abitabile del sistema solare. La vita sulla terra è possibile da circa 4 miliardi di anni. Questo è l'ultimo. Il sole continuerà a vivere per altri 5 miliardi di anni, ma ora viviamo nell'ultimo miliardo di anni in cui la vita è ancora possibile qui. Quindi, se noi scompariamo, noi potremmo essere stata l'unica e ultima chance che la vita stessa aveva di andarsene da qui prima che sia troppo tardi. Se noi non facciamo niente, se noi non ci concediamo il tempo di lavorare insieme, volerci bene, imparare a stare insieme in questo mondo e a contatto con la natura, non avremo, magari sprechiamo l'ultima e unica occasione che la vita ha per mettersi in salvo. Quindi noi non siamo importanti solo perché noi, come esseri umani, siamo importanti. Siamo parte di una storia che riguarda la vita stessa. Un tempo la vita era solo in fondo all'oceano. Tutto quello che era sulla superficie era mondo alieno. Nulla viveva sulla superficie. Moriva qualsiasi cosa si avvicinava. Quindi per loro, per le prime forme di vita in fondo all'oceano, quello era come se fosse la Luna. Come se fosse Marte. Per noi, noi che siamo ora solo sulla Terra, noi guardiamo questi mondi e pensiamo è inutile, tu non sono. È casa nostra. Tutto il sole, tutto il sistema solare, il posto dove viviamo. E quella storia di pezzo in pezzo che si è portata dalle prime forme di vita, che è sopravvissuta a cinque grandi estensioni di massa, è sopravvissuta a tutto quello che la natura gli ha lanciato contro, sopravvive ancora per un pezzo. Questo è il sinale. E se noi scompariamo in questo puntino, in mezzo a puntini, in mezzo a una galassia, non interessa a nessuno. Ma se noi non scompariamo, diamo la chance alla vita stessa. Noi, noi magari come esseri umani non ci saremo. Ma se noi facciamo un tempo ad andarcene da qui, la vita potrebbe continuare. E magari è rarissima. Magari la vita capita così di rado che nella galassia forse saranno cinque, sei posti dove c'è vita così. Se noi diamo la possibilità alla vita di scappare, non finisce tutto qui. E quindi un giorno, magari nessuno si ricorderà degli esseri umani, però sarà vita sparsa su tutto quest'angolo piccolo della galassia, perché una specie era troppo testarda e quando aveva tutte le difficoltà di fronte, tutta la complessità, tutto quello che poteva andare storto, andava storto, non ha rinunciato. Perché siamo troppo testardi e se abbiamo la chance di farcela, ce la faremo. Beh, scusa, a proposito di pezzi di universe, pezzi di universe, so che tu giri con... Sì, ti ho portato a dei frammenti di posti che normalmente percepiamo come molto lontani. Questo è un pezzo della Luna con cristalli di quarzi che si sono formati nell'arco di miliardi di anni di impatti contro la Luna e questo frammento si è iniziato a formare sei, quattro miliardi di anni fa, in un periodo in cui la vita aveva... era appena iniziata. Quindi quando questi cristalli sono formati, come li vedi, la vita sulla Terra era solo qualche microbo in fondo al mare. E ora, invece, quella stessa forma di vita che alcuni non avreste dato due spicci, perché c'erano solo qualche microbo, è lì a toccare quel pezzo. Quindi è buffo come certi racconti si intrecciano tra di loro. E questo, invece, è un frammento che ve ne dà molto più lontano di così. È un pezzo di Marte. Oh, mamma mia. E quei cristalli che si vedono che sono verdi sono creati con interazione con acqua. Quindi sappiamo che questo era una goccia di lava che è caduta dentro acqua. E in quel momento, 3,6 miliardi di anni fa, quando Marte aveva acqua, fiumi, mari, anche la Terra ce l'aveva ed era appena nata la vita. Per cui c'è una buona chance che anche su Marte sia nata la vita. E forse questo ha toccato qualche microbo marziano. Quindi chi lo sa? Ora puoi toccare qualcosa che ha toccato la vita su Marte. Tu sei una specie di museo itinerante. Cioè, io lo so, me l'hai raccontata la storia che sei un piccolo museo. Perché spesso ho la sensazione che le persone, quando guardano queste cose documentari su Luna, Marte, hanno la sensazione che esistono là fuori, da qualche parte, ma non sono posti dove realmente possiamo andare. Noi abbiamo la sensazione che il Giappone, per esempio, esiste davvero perché puoi prendere un aereo e puoi andarci. Vedi quotidianamente webcam di posti in Giappone, sai come sono lì le persone, eccetera. Noi non abbiamo nessuna persona che ora su questi mondi. Immagina com'è stato negli anni 60 e come sarà presto nel 2025-26 per questa generazione, per come siamo noi. Immagina com'è sarà vedere in diretta, sul monitor, la discesa dei umani sulla Luna e poi uscire fuori sul balcone e guardare la Luna e sapere che lì, su quel puntino, ci sono dei umani come te. Ma perché ci stiamo per tornare. Sì, 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 la prima missione con umani è stata già selezionata, i quattro assonati sono già stati chiamati, diciamo che ci siamo i nomi, e partiranno a novembre 2024 per un giro intorno alla Luna. Passeranno due settimane. E la prossima sarà atterraggio sulla Luna nel dicembre 2025. Quindi per una parte. Ma non è passato così tanto tempo dalla prima volta in cui ci sono andati a oggi? Eh, quella... La domanda che ti avranno fatto 100 milioni di volte. Sì, guarda, è che quando era nata la corsa per arrivare alla Luna? Era nata con lo scopo appunto della corsa, di vincere una dimostrazione di potere nella guerra fredda. Il budget della NASA era circa 4% quando stavano lavorando per l'obiettivo di andare lì. E poi dopo è stato tagliato 0,4-0,3%. Quindi immagina se tu hai uno stipendio di 2.000 euro, poi diventa uno stipendio di 180 euro. Non riesci a fare le stesse cose. Mancava la volontà politica, mancava tutto. Ora è cambiato perché ora non torniamo più come in una corsa. Non torniamo come una sola nazione. Noi torniamo come un gruppo. Ci sono decine di nazioni in parte di questa impresa, inclusa l'Italia. Tipo i pannelli solari e molti altri componenti di queste navicelle sono fatte qui in Europa e anche in Italia. I tubi attraverso cui passa l'aria e l'acqua che respirano e bevono gli astronauti, viaggiano verso la Luna, sono fatti da una piccola azienda a Schio. Quindi non andiamo soltanto... I Stati Uniti basta. Non ci sono neanche bandiere a questo giro. Andiamo come un gruppo, come decine di nazioni insieme per creare un avvamposto permanente per gli umani al polo sud della Luna e da lì imparare come iniziare a viaggiare nello spazio profondo e andare su Marte. Questa è l'ultima volta. Noi siamo l'ultima generazione nata in un mondo in cui gli umani sono una specie con un singolo pianeta e non sono una specie multiplanetaria. Ora per noi sembra una cosa fantascientifica, ma pensa, chiunque ha meno di 23 anni non è mai vissuto in un mondo in cui gli umani non vivono nello spazio. Perché la stazione spaziale è abitata continuamente dal 30 ottobre 2000, circa, primo novembre. Quindi è come se si fosse anche in cerca di un'altra casa, visto che questa si sta lasciando depedire. No, in realtà è il contrario, è che ti ricordi com'è cambiato quando vai a vivere fuori casa? Quando vai a vivere fuori e i genitori non fanno tutto per te, devi imparare a essere più responsabile. Scopri che, tipo, devi comprarti tu da mangiare, devi imparare a cucinare, devi imparare che i calzini non si lavano da soli, eccetera. Quindi tutte queste cose, noi quando siamo andati nel spazio la prima volta, la prima reazione da esseri umani è stata abbiamo una casa incredibile. Il movimento ambientalista come lo conosciamo, quello di cui ti raccontavo, negli anni 60, tra l'altro, la copertina di quel movimento, lo slancio, è arrivato grazie alle foto della Terra dalla Luna. Quando ho avuto modo di parlare con... ho parlato con sei astronauti che hanno camminato, hanno fatto parte delle missioni Apollo, quindi che sono stati sulla Luna. E la cosa che tutti quanti sottolineavano sempre è che siamo andati a scoprire la Luna e abbiamo scoperto la Terra. Quindi andare nello spazio, vederci da una nuova prospettiva, cambierà completamente il modo in cui vediamo noi stessi. Ed è già successo, per esempio, in piccolo a Parigi, quando l'ho fatta la torre, le persone che andavano su tornavano in lacrime. Ci sono racconti bellissimi dell'inizio del Novecento di tutte le persone che non avevano mai visto Parigi oltre il proprio quartiere e quando arrivavano su vedevano tutta la città con le persone minuscole e avevano un senso di come facevano parte di una storia più grande. E quello ha creato e forgiato l'identità di Parigino come non esisteva prima. E quindi andare nello spazio ci farà sentire umani. Se noi diventiamo bravi ad andare nello spazio, possiamo costruire tutto quanto lì e trasformare la Terra in un parco per noi e per la vita. Questa cosa è la cosa più trasformativa che abbiamo mai fatto come umani. Diventare interplanetari ci farà cambiare per sempre come ci rapportiamo a noi e che cos'è la vita e che cosa siamo in grado di fare. Allora per questo sei così ottimista, perché comunque studiare non delude mai. Studiare sempre e fare ricerca è la cosa in assoluto che ti rende meno triste del mondo, credo. Sì, a volte mi scrivono di come molti sono diventati... Io ho letto un commento di un ragazzo stupendo che dice Adrien è colui che mi ha fatto scegliere ingegneria aerospaziale come corso di laurea. Il mio scopo è contribuire all'umanità nell'esplorazione spaziale. Magari un giorno mettere piede su Marte. E come me ci saranno altre centinaia di ragazzi ispirati da Adrien a conoscere e a studiare la scienza, che è la nostra unica salvezza. Diciamo che l'hai ispirato bene comunque. Sono molto felice di questo e se quello che faccio può essere di ispirazione sono soltanto lusingato. Spero tanto che questa cosa possa dare un'immagine anche più positiva di quello che possiamo fare come esseri umani. Non è scontato che andrà bene. Io non sono ottimista perché penso sì sì sicuramente andrà bene. Sono ottimista perché penso che comunque andrà. Quando vedo quello che inspira, quello che sono in grado di fare gli esseri umani, quando vedo anche i tuoi contenuti, la meraviglia che trasmetti, penso anche se andrà, quando ci saranno momenti terribili, anche se tante cose andranno male, sapremo starci vicini. Non siamo soli. Quello che mi dà tutto l'ottimismo è il fatto che... È un po' come quando stai malissimo e ti lasci e finisce tutto, stai di merda e non vuoi qualcuno che ti dica sempre andrà bene. A volte la cosa bella è che arriva qualcuno con una birra e ti dice che schifo, vero? E piangi insieme, ti sfoghi e senti che non sei sola. Ecco, ti saluto con un fondato ottimismo. Questo penso sia il... potrebbe essere il titolo della puntata. Un... come si può dire? Un... vabbè, poi ci penso. Ma sì, sì, e se questo sarà l'ultima nota dell'umanità, la cosa che spero è che non andremo, non scopriremo senza aver... essere andati con un bang. Cioè faremo di tutto fino all'ultimo. Se noi non siamo in grado di sopravvivere, non andremo senza combattere, non andremo senza aver provato tutto quello che ci viene in mente. E di questo, a prescindere da come andrà, posso essere solo orgogliosa di come siamo come umani. Anche io. Grazie, Adriano. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Va bene, che sento abbiamo fatto? Vado. Grazie mille. Riccario ci ha fatto. Saludate? Eh ma sono 37 e mezzo. È sempre showtime, è il senso della vita, essere applauditi. Ok. Ciao, ciao. Ciao. Va bene. E poi dopo possiamo andare il trucco. Se noi quelli li dobbiamo anche tenere in canzoncina, sai? Che me li levi per ultimi. Ci avete mai pensato che nel 2100 saranno finiti i pesci, sarà sciolto il cemento? Vivremo nelle grotto. Vivremo nelle grotte, sarà un nuovo inizio, sarà bellissimo affacciarsi giù dal precipizio. Non ci saranno più fiumi, ma fiumi di persone che chiederanno aiuto alla televisione. Qualcuno già si vede a piedi. Qualcuno già si vede a piedi nella neve. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, la, 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 la. Chissà di noi su questa terra che sarà. Uh, la, 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 la. C'è chi alla fine fa lo scopro e fa. C'avete mai pensato che nel 3100 non soffriremo il caldo, tirerà un gran bel vento? Si sarà spento il sole, certo avremo un po' sete, non ci sarà più da mangiare, quindi addio alle diete. E si farà l'amore anche con le farfalle, niente matrimoni, quindi niente sberle. E gli ultimi bambini sopravvissuti dentro le grotte a disegnarci muri. Ci sarà sempre qualcuno che aspetta i soldi, che ha problemi più grandi, tipo che non c'ha i denti. Ma un bicchiere di vino e accenna un sorriso, anche senza incisivo. Uh, la, 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 la. Chissà se il senso della vita è tutto qua. Uh, la, la, la. C'è chi alla fine fa lo trovo e fa. Yeah, 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 yeah. Uh, la, la, la. Chissà chi vive senza amore e come fa. Uh, la, 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 la. C'è chi alla fine fa lo scopre e fa. Fa, 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 fa. Mi senti tamburi, insieme ai violini. Senti come ballano sotto agli olivi. Senza le parole, come se sta bene. Basta un coro che fa, un coro che fa, un coro che fa. Uh, la, 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 la. Chissà se il senso della vita è tutto qua. Uh, la, 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 la. C'è chi alla fine fa lo trovo e fa. Yeah, 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 yeah. Uh, la, la, la. Chissà di noi su questa terra che sarà. Uh, la, la, la. C'è chi alla fine fa lo scopre e fa. Uh, la, la, la. Uh, la, 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 la. Grazie a tutti Grazie a tutti